Buonasera, trasmettiamo fra poco ping pong, attualità del Tg1. Crisi economica e iniziative per uscirne. Per la prima volta in televisione un manager privato, De Benedetti. Si confronta con il ministro delle partecipazioni statali De Michelis dopo le polemiche su Little Cedar di Bagnoli. Alle 21.30 per il ciclo Uomini in guerra potrete seguire il film drammatico L'infanzia di Ivan di Andrei Tarkovsky. Leone d'oro a Venezia per il 1962. Alle 23 per la serie Grandi Mostri andrà in onda il programma Il Gotico a Siena. Alle 23.30 il telegiornale. Sulla Rete 2 stiamo per trasmettere la quarta ed ultima puntata dello sceneggiato Il Diavolo al Ponte Lungo, liberamente tratto dal romanzo di Riccardo Bacchelli. Alle 21.50 Tg2 dossier il documento della settimana. Alle 22.50 il telefilm in caso di emergenza della serie Visite a domicilio. Alle 23.20 Tg2 stanotte. Passiamo alla Rete 3. In occasione della Biennale di Venezia 81 per il Festivale Internazionale di Musica Contemporanea trasmetteremo il balletto pantomima Mirò Luccello Luce. Musica di Silvano Bussotti. Andrà quindi in onda alle 22.15 in diretta uno speciale Tg3. Sul Little Cedar di Bagnoli con l'intervento del ministro De Michelis, del sindaco di Napoli Valenzi e del consiglio di fabbrica. Alle 23.15 potrete seguire Tg3. Va ora in onda Ping-Pong, attualità del Tg1. Per il ciclo Uomini in guerra va ora in onda il film L'infanzia di Ivan di Andrei Tarkovsky, Leone d'Oro a Venezia nel 1962. Per la serie Grandi Mostre trasmettiamo il programma Il Gotico a Siena.